Ben trovati. In primo piano, vertenza lavoro. Il presidente della regione De Filippo ha incontrato una delegazione dei lavoratori della Mister Day Vicenzi di Adella. Nella riunione alla quale hanno partecipato il consigliere regionale di Forza Italia Pagliuca, la Task Force per l'Occupazione e i sindacati confederali di categoria, si è discusso del mantenimento della produzione dei livelli occupazionali, dopo la decisione della Vicenza di dismettere lo stabilimento lucano. La regione, assicurato De Filippo, metterà in campo ogni strategia perché la produzione nel sito industriale di Adella continui con un imprenditore adeguato a garantire la produzione e ad affrontare il segmento di mercato in forte crisi. E sulla vertenza Mister Day, ma anche su quella della Spalberg, interviene il consigliere regionale del gruppo misto La Destra Napoli, il quale afferma che all'orizzonte si profilano sì nuove speranze di occupazione, ma anche scenari non confortanti per la minaccia di chiusure di aziende. La nostra regione, sostiene Napoli, continua ad essere terra di conquista da parte di imprenditori senza scrupoli che, pur di accaparrarsi i finanziamenti, presentano piani industriali di dubbia efficacia che vengono approvati con il beneplacito dei sindacati e degli organi regionali, secondo la logica del tirare a campare. 80 milioni di euro, 50 destinati alla Val Basento e 30 alla Val d'Agri, un finanziamento che fa capo alla legge regionale per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo lucano. Valentina Colucci. Un investimento di 80 milioni di euro destinato alla realizzazione di nuove attività coerenti con i settori strategici di sviluppo della regione e al potenziamento delle realtà esistenti e la cifra prevista da due avvisi pubblici che gravitano all'interno della legge regionale per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo lucano approvata lo scorso febbraio è presentato nel corso di una conferenza stampa dal presidente della regione di Filippo e l'assessore alle attività produttive strazioso. Presenti anche il vicepresidente della regione Santo Chirico e i dirigenti generali dei due dipartimenti di riferimento. I fondi saranno così ripartiti. 50 milioni di euro saranno destinati alla Val Basento e i restanti 30 milioni alla Val d'Agri. Fondamentale ruolo delle banche a cui spetterà una valutazione preliminare dell'accessibilità al credito da parte delle aziende che presenteranno la domanda. A breve è prevista la pubblicazione di altri bandi dedicati alle imprese più piccole presenti su tutto il territorio regionale. In una fase di crisi alle imprese che hanno qualità e capacità di investimenti noi dobbiamo corrispondere con strumenti più snelli, con risorse finanziarie certe e con una tempistica che consente a chi vuole investire di fare anche velocemente. E sempre in tema di lavoro si registra la dichiarazione del capogruppo del BDC in Consiglio regionale Nardiello, secondo il quale la Giunta regionale, che sta concentrando ogni sforzo per salvare posti di lavoro e rilanciare aziende in crisi, ha bisogno del sostegno dei parlamentari lucani per ottenere un tavolo nazionale con interlocutori ai Ministeri del Welfare e dello sviluppo economico. Noi comunisti riteniamo indispensabile l'introduzione di un meccanismo di indicizzazione degli stipendi per tutelarne il potere di acquisto dell'inflazione. Norme, misure di vigilanza e ispezione per prevenire le malattie infettive negli ospedali, nelle case di cura, negli ambulatori medici e dentistici. È il cuore di una proposta di legge approvata in Consiglio regionale. Le norme per la prevenzione della diffusione di malattie infettive sono il contenuto di una proposta di legge presentata dai consiglieri regionali Antonio Di Sanza e Marcello Pittella del PD, sottoscritta anche da esponenti dell'opposizione, approvata nell'ultima seduta del Consiglio regionale. Il documento stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private, gli istituti penitenziari, le scuole e gli studi odontoiatrici avranno l'obbligo di provvedere almeno una volta all'anno a proprie spese all'ispezione e al controllo igienico-sanitario dei sistemi di condizionamento dell'aria e di ventilazione, di distribuzione e raccolta idrica e degli ambienti in generale. Funzioni di vigilanza e ispezione saranno affidate ai dipartimenti di prevenzione delle ASL. Le malattie infettive e la diffusione di germi e batteri, afferma il consigliere Di Sanza, continuano a rappresentare un rilevante problema sanitario nonostante interventi di prevenzione e di cura. Per questo si è ritenuto opportuno offrire al sistema sanitario regionale una normativa di salvaguardia dei rischi di infezione negli ospedali, nelle case di cura, negli ambulatori medici e dentistici. Lo chiedevano i pazienti, i sanitari, gli operatori che quotidianamente frequentano i luoghi di cura. Si ritorna a parlare della chiusura della caserma Lucania a Potenza e questa volta viene indicata anche una data, quella del 21 novembre prossimo. Sulla questione interviene il consigliere regionale del gruppo misto popolare Uniti Scaglione, il quale esprime parole di dissenso sull'operato dell'intera classe politica di centrodestra. Il ministro della difesa la russa ferma Scaglione e venga a Potenza a vedere il valore della caserma. Una lunga storia fatta di militari che a Potenza si sono formati ed una perfetta integrazione con la città e la regione. Il trattamento chirurgico dell'oncologia toracica se ne è discusso in un convegno tenutosi presso il San Carlo di Potenza. Ha seguito i lavori per noi. Maria Grazia, Zaccagnino. Tre giorni per l'educazione continua e medicina. È stato inaugurato nell'auditorium dell'ospedale San Carlo a Potenza il terzo convegno di chirurgia toracica oncologica organizzato a dieci anni di attività dell'unità operativa di chirurgia toracica. Ospiti e relatori non solo dagli ospedali Lucani ma anche da Chieti, Napoli e Venezia. Ad aprire i lavori il promotore dell'iniziativa, dottor Giuliano Orciuoli. L'aggiornamento continuo, ha detto, è fondamentale per la crescita professionale dei sanitari e rientra nel piano di riorganizzazione generale del San Carlo. Non è voluto mancare all'inaugurazione il presidente dell'Aggiunta regionale Vito Di Filippo. Questo convegno, ha detto il presidente, qualifica la sanità lucana. Se il sistema funziona non solo si valorizzano le competenze mediche ma si danno le giuste risposte ai bisogni di una comunità che si rivolge con fiducia e sicurezza e a cui bisogna rispondere con serietà e rigore. Soddisfazione per l'approvazione in quarta commissione della proposta di legge sulla disciplina delle associazioni di promozione sociale in attuazione della legge quadro la 383 del 2000 in materia di associazioni di promozione sociale è stata espressa dal vicepresidente dell'organismo La Penna. La proposta di legge, sottolinea il consigliere, è importante non solo perché la regione dà attuazione ad una normativa nazionale risalente ormai al 2000, ma soprattutto perché costituisce un riconoscimento ufficiale a tutto l'associazionismo presente sul territorio regionale, nato spontaneamente per rispondere ai bisogni del territorio. Un mezzo busto di bronzo per ricordare il primo presidente della regione Basilicata, Vincenzo Verrastro. L'opera, realizzata dallo scultore Antonio Masini, è stata posta dinanzi al Palazzo della Giunta Regionale. In una cerimonia pubblica voluta fortemente dall'Associazione degli Emeriti Parlamentari e Consiglieri Regionali della Basilicata, è stato scoperto il busto dedicato a Vincenzo Verrastro. Posto all'ingresso del Palazzo della Giunta Regionale, l'opera scultore, realizzata dall'artista Masini, può rendere omaggio al padre della massima istituzione territoriale, colui che ha avviato la vita politica regionale. Grande attenzione per gli ultimi, lui se l'è portata dietro e in particolare con un grande interesse per il mondo giovanile. Lui viveva come un dramma personale il problema della disoccupazione giovanile. Ha creduto fin dai tempi della provincia alla possibilità che l'istituzione di una università potesse significare avere un'ulteriore risorsa di ricchezza culturale, intellettuale. Così Valeria Verrastro racconta il padre, ultima figlia del primo presidente della regione basilicata. Un esempio da emulare è stato detto dai presidenti della Giunta di Filippo e del Consiglio dei Franchi per le sue eccelse qualità umane e politiche. Ha avuto il merito di aver rotto l'isolamento culturale di questa regione, ha ricordato Peppotto Guarino, presidente dell'associazione e di intraprendere la strada verso la dignità civile. L'impegno politico come servizio alla comunità e la concezione sociale del proprio tempo, l'eredità più importanti che ci ha lasciato. Si è conclusa la due giorni lucana dedicata alla Scuola di Studi Politici di Mosca. La delegazione guidata dalla direttrice dell'Istituto di Ricerca ha preso parte ad un incontro tenutosi presso l'hotel San Domenico a Matera durante il quale si è discusso dell'utilizzo dei fondi strutturali. L'iniziativa rientra nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto tra la conferenza dei presidenti e delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e la Scuola di Mosca nata nel 1992 con il sostegno del Consiglio d'Europa per promuovere lo sviluppo delle istituzioni democratiche e civili nella società russa. La delegazione accompagnata dal consigliere regionale della Lombardia Gianbietro Borghini ha visitato il centro di ricerca metapontum agrobiesso e l'azienda Pantanello e ha seguito un seminario dal tema i sassi da vergogna nazionale a patrimonio unisco con il presidente della fondazione Zetema Raffaele De Ruggeri. E con questa notizia è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che notizie e servizi aggiornati quotidianamente sono visionabili sul sito www.tgbasilicatanet.it. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS